Un confatello mio, prima della messa, anche nella messa moderna, lui sempre recitava, usava il configlio davanti e dopo ha fatto mia colpa, mia colpa, mia colpa. E quelli, i suoi parochiani, lo hanno accusato davanti al vescovo che sempre li porta per la depressione. Se loro vanno nella messa comincia già all'inizio di metterli in depressione, cadono in depressione e loro si hanno accusato e il vescovo ha proibito di usare dopo il configlio. Questo non è un scandalo, è uno scandalo questo.